Buon pomeriggio a tutti i presenti. Io sono Emiliano Giovannetti, rappresento l'Istituto di Linguistica e Computazione nella redazione di Aria Aperta. La conferenza di oggi è la penultima di questo ciclo autunnale e devo dire sarà speciale, sarà particolare. Infatti si parlerà del Talmud, come avrete letto qua, e quindi di un testo che prevalentemente ma non esclusivamente è di natura religiosa e normativa. E ovviamente è uno dei testi fondamentali dell'ebraismo. Però si parlerà anche di scienza. Ma come si coniugano religione e scienza? Beh, oggi almeno in due modi. Innanzitutto attraverso il progetto di traduzione del Talmud babilonese, del quale probabilmente alcuni di voi avranno sentito parlare, dove io e altri colleghi dell'Istituto di Linguistica e Computazione lavoriamo già dal 2012. In questo progetto effettivamente scienza e tecnologia vanno a braccetto con la religione, dal momento che il Talmud viene tradotto in italiano con l'aiuto di un software da noi sviluppato. Si chiama Traduco e magari del quale vi parlerò io in una delle prossime conferenze. Non è comunque l'oggetto oggi di discussione, il software, la parte computazionale. Però religione e scienza, oltre che nei progetti, possono coesistere anche nelle persone e soprattutto nel lavoro che queste persone fanno. E questo è proprio il caso di Gianfranco Di Segni, scienziato ma allo stesso tempo rabbino. Gianfranco infatti è primo ricercatore presso l'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del CNR di Monte Rotondo. Si è laureato in Biologia Molecolare all'Università Ebraica di Gerusalemme e ha conseguito il dottorato in Genetica Medica presso la Sapienza di Roma. Ha studiato all'Accademia Talmudica di Strasburgo e al Collegio Rabbinico Italiano dove ha conseguito il titolo di rabbino. È stato visiting scientist per due anni al Dipartimento di Genetica della University of Washington di Seattle e docente presso il Collegio Rabbinico dal 1982, coordinatore del Collegio stesso per molti anni, fino a poco tempo fa se non sbaglio. Quindi un percorso professionale condotto in Italia e all'estero dove scienza e religione di fatto si intrecciano. In questa occasione inoltre Gianfranco ci parlerà anche in veste di coordinatore alla traduzione del progetto Talmud, ma soprattutto ci aprirà una finestra sul Talmud e sulle relazioni che questa opera così complessa e affascinante intrattiene con alcune questioni scientifiche di allora e di oggi. E quindi con grande piacere lascio la parola a Gianfranco Di Segni. Grazie molto per avermi invitato a tenere un seminario qui al CNR di Pisa dove ero stato già altre volte per partecipare a dei lavori riguardo alla traduzione del Talmud. Questa volta vengo a parlare del Talmud e anche un po' del progetto del Talmud italiano, ma l'argomento specifico è la scienza del Talmud, nel Talmud. Vorrei partire da questa slide, presenterò vari slide, le scorreremo anche abbastanza rapidamente. Qui vediamo la riproduzione dell'osservatorio astronomico realizzato da Tycho Brahe, a Stinebo, città delle stelle. Ho l'avventura di avere un genero danese per cui mi sono informato come va pronunciato il nome e in realtà sarebbe Tycho, però continuiamo a dirla all'italiana e alla latina. Questo osservatorio sta nell'isola di Venn, ma ci furono altri osservatori a Urania, che è anche quella con termine stellare, e al castello di Benatec. Qui intanto vedete degli strumenti molto sofisticati per l'osservazione delle stelle. Tycho Brahe, che è morto nel 1601, non poteva ovviamente avere il telescopio, perché come sapete è stato inventato o reinventato da Galileo, dal Pisano Galileo soltanto nel 1609. Per cui c'erano degli strumenti sofisticati per l'osservazione, adesso ne parleremo, che però non c'era il telescopio. A questo osservatorio, all'osservatorio del castello di Benatec, partecipò David Gans, che adesso vi... questa è la lapide di David Gans al cimitero di Praga. David Gans era un rabbino e uno scienziato, si interessava anche di storia, di geografia, matematica e astronomia, e andò a lavorare al castello di Benatec presso Tycho Brahe, che era stato chiamato dall'imperatore Rodolfo, per mettere a punto le osservazioni astronomiche. David Gans ha scritto un'opera che qui vediamo al frontespizio, Nehmad Venaim, dolce e piacevole. Questa è la prima opera ebraica in cui si nomina Niccolò Copernico. E qui, in ebraico, per chi conosce l'ebraico, qualcuno sicuramente conosce, approfitto per ringraziare il professor Bruno Di Porto di essere venuto a sentire questa mia breve chiacchierata. Il professor Di Porto è uno studioso di storia, ma si interessa a tutto campo dell'ebraismo. E qui vedete nella prima riga Nicolaus Copernicus, e parla di Copernico. Ed è, parla di Copernico in maniera molto teologiativa. Dice David Gans, lo traduco direttamente in italiano, che circa 70 anni fa, un uomo chiamato Nicolò Copernico, un geniale scienziato che superava nell'astronomia tutti i contemporanei, si dice che nessuno l'abbia eguagliato dall'epoca di Tolomeo. Egli ha sfruttato la posizione e i movimenti dei pianeti e delle stelle con una precisione meticolosa, eccetera, eccetera. Voglio citare l'ultima parte della sua descrizione in questo brano, nelle righe che seguono. Dopo aver tessuto le logi di Copernico, dice ricordo questo fatto perché sia chiaro che siamo lungi dall'ammettere che tutto ciò che si riferisce al campo del movimento delle stelle e dei pianeti sia assolutamente conforme a quello che ne hanno detto gli astronomi dell'antichità. Quindi David Gans sta tagliando il ponte con l'antichità, perché ricordiamoci che siamo ancora sotto la mentalità aristotelica e del sistema tolemaico. Questo non vuol dire che Gans accetterà to cure il sistema copernicano, adesso vedremo. E conclude questo brano Gans. in questo campo è accordato all'uomo piena libertà per scoprire la teoria che più si conformi alla propria ragione. Ammesso che questa teoria offre una spiegazione ragionevole dei paradossi dei movimenti dei corpi celesti. Allora voi sapete che il problema del movimento dei corpi celesti è che i pianeti vanno in un senso e a volte tornano indietro. Oggi sappiamo qual è la spiegazione, è perché il movimento della Terra e il movimento degli altri pianeti assommati fa sì che a volte, visto che il periodo orbitale dei pianeti è diverso da quello della Terra, ci sia un'inversione. Questo non era ovvio nel sistema tolemaico e per cui Ptolomeo dovette introdurre gli epicicli, ossia dei cerchi sopra degli altri cerchi, che facevano sì che i pianeti tornassero indietro. Questi sono i paradossi del movimento delle stelle che Copernico ha semplificato, non del tutto, perché il sistema copernicano poi è stato superato, è stato perfezionato, però era già un po' più semplice quello del tolemaico. Racconta David Gans, sempre in queste opere che ha scritto sull'astronomia, della visita professionale che fece all'osservatorio di Tico Brahe. E questo avvenne nel 1600. Inizia così Gans. Qualcosa di straordinario avvenne nel 1600, quando il nobile imperatore Odolfo, salto un po', mandò a chiamare e invitò dalla terra di Danimarca il celebre studioso, l'astronomo più grande di tutti quelli che lo precedetero, il nobile Tico Brahe. Tutto questo è scritto nell'embraico, anche se lo metto adotto in inglese e in francese. E lo fece insediare nel castello di Benatec, eccetera, eccetera. L'imperatore costruì per lui una serie di tredici stanze consecutive, in ognuna dei quali era posto uno strumento, tipo questi strumenti che vedete qui in a strada e anche in queste torrette. Vedete che qui ci sono delle torrette ai vari angoli e degli osservatori che permettevano di osservare nell'oscurità i movimenti dei pianeti e delle stelle. Continua Gans nella descrizione di questa sua visita all'osservatorio di Benatec. Durante tutto l'anno i scienziati che lavoravano là osservavano giorno dopo giorno e registravano con precisione su un diario il percorso e la posizione del Sole nella sua orbita, riportando la longitudine, l'altezza nel cielo, la sua distanza dalla Terra, e così facevano ogni notte per ognuno dei sei pianeti, ricercando con precisione la posizione di ciascuno di essi, longitudine, altitudine, eccetera, eccetera. Anche io, David Gans, autore di questo libro, sono stato là tre volte, ogni volta per un periodo di cinque giorni consecutivi, sedendo con loro nelle stanze d'osservazione, e ho visto il lavoro che veniva alla svolta, grandi e meravigliose cose, non solo riguardo ai pianeti, ma anche alle stelle fisse, eccetera. La procedura era così. Tramite tre diversi strumenti, accanto a ciascuno dei quali stavano due studiosi, si misurava il passaggio di ogni stella attraverso la linea della mezzanotte e immediatamente le misure dell'ora, dei minuti e dei secondi, erano registrate sul libro. A tal proposito Tico faceva uso di un meraviglioso nuovo orologio. Conclude questo brano. Posso testimoniare con tutta sincerità che un così grande impegno in indagini del genere non si era mai visto né sentito. I nostri antenati non ci hanno parlato, ne abbiamo letto nessun libro, sia di fonte ebraica, sia degli altri poveri del mondo, che ci fosse già stata una cosa simile. Mi è piaciuto leggervi anche se ho un po' lungo questo brano, perché il mio background, mi sono ritrovato nella mia attività di ricercatore, almeno quando ero un po' più giovane, che lavoravo al banco e facevo gli esperimenti e insieme ai colleghi, questo lavoro analitico, preciso, accurato dei ricercatori è qualcosa che in effetti posso capire che dessasse la meraviglia a Davide Gans e agli altri. Tra l'altro anche Keplero, chi è interessato può leggere nel Somnium, che è un'opera che parla della luna, e anche lì anche Keplero scrive cose del genere. Andiamo al dunque. Perché durante questa visita, queste visite che fece nel castello di Benatec, accanto a Tico Brahe e accanto a Keplero, che Keplero era assistente di Tico Brahe, e poi sarebbe diventato direttore dell'osservatore. Allora, racconta Davide Gans che un giorno Tico gli disse, gli citò una discussione nel Talmud, fra i saggi del popolo di Israele e i saggi degli altri popoli, riguardo alla struttura del mondo. La discussione, che adesso poi vedremo in qualche dettaglio, era se... Vediamo subito... Ok, aspetta, prima di andare in discussione, facciamo qualche riassunto per chi non è proprio addentro alle questioni astronomiche. Il sistema tolemaico, la Terra sta al centro del mondo, questo è uno schema in ebraico, da una delle opere astronomiche del 1600-1700, in cui al centro vedete la Terra, si intravedono le montagne, eccetera, e poi tutto attorno ci sono le sfere della Luna, di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove, di Saturno e poi le stelle fisse. Questo è il sistema tolemaico con la Terra al centro del sistema. Poi qui invece c'è il sistema copernicano con il Sole all'interno e poi attorno via via ci sta Venere, c'è la Terra con la Luna, vedete il cerchietto con la Luna che circonda la Terra, poi Marte e gli altri pianeti, eccetera, questo è il sistema copernicano, e questo pure è un schema, però in latino, quello prima era in ebraico, e qui c'è poi il sistema di Tico Brahe con i pianeti che ruotano attorno al Sole e tutti quanti poi ruotano attorno alla Terra. Quindi è un sistema intermedio fra il sistema tolemaico e copernicano. Perché sapete che era un problema accettare il sistema copernicano per l'epoca, e infatti poi dopo Galileo è stato processato e messo agli arresti domiciliari, si era precisato due volte nel 1616 nel 1933, è stato messo agli arresti domiciliari nel 1933 per aver difeso il sistema copernicano. Per cui c'era, allora sì, anche Copernico pubblicò il libro che scrisse Copernico sul sistema che poi ebbe nome copernicano, uscì nell'anno della sua morte, perché anche lui era reticente a farlo uscire. Quindi Tico sostiene una visione intermedia, perché adesso nella discussione del Talmud è che questo è quello che dice. Allora, andiamo avanti. Ok, allora questa è la discussione. Nel Talmud, qui intravedete, questa è una schermata di lavoro presa dal sistema traduco che Emiliano Giovannetti ci ha appena accennato. Adesso parleremo un po' più diffusamente di quello che è il Talmud, però intanto vediamo questa discussione e poi passiamo a parlare del Talmud. La discussione dice così. I saggi di Israele dicono la ruota celeste è fissa e le costellazioni si muovono su di essa e poi tornano al loro posto. Questo schermo, per chi riesce a leggere, le parole in eretto sono le parole che traducono il testo originale ebraico, ebraico o aramaico, e le parole in chiaro sono parole aggiunte per far scorrere, però poi dopo spesso sono già un'interpretazione. Allora, limitiamoci quindi a tradurre il testo così com'è. Quindi i saggi di Israele dicono la ruota celeste è fissa e le costellazioni si muovono sulla sfera celeste. I saggi dei popoli, degli alti popoli, di cultura greca presumibilmente, perché questa discussione avviene nel secondo secolo, nella terra di Israele, che era sotto il dominio romano, influenza alessandrina, quindi cultura greco-romana. I saggi degli alti popoli dicono la ruota si muove e le costellazioni, le stelle, sono fisse su di essa e quindi si muovono insieme alla sfera. Disse Rabbi, Rabbi Udana Sidi, di cui adesso vi parlerò, che non dà ragione agli altri popoli e mantiene l'opinione dei saggi di Israele. Poi veremo, c'è un'altra discussione fra un po', qui invece vedremo che è il contrario. Allora, Tico Brahe dice al suo allievo assistente rabbino astronomo David Gans, gli dice i saggi di Israele nel Talmud hanno fatto male a dare ragione ai saggi degli altri popoli. E qui, infatti, vedete quest'altra discussione su cui poi torneremo. I saggi di Israele dicono di giorno il sole si muove da est a ovest sotto al cielo e di notte sopra al cielo. I saggi dei popoli dicono il sole si muove sotto al cielo e di notte al di sotto della terra. Non vi preoccupate, adesso vi spiego tutto. Però, ci interessa dire che la frase che dice Rabbi nella terza riga in blu disse Rabbi vedo più giusto ciò che dicono loro, gli altri popoli, di quanto diciamo noi. perché le sorgenti sono fresche di giorno ve lo spiego dopo. Allora qui, almeno su questa discussione, forse anche sulla prima, Rabbi dà ragione agli altri popoli. Tico Ebrae rimprovera a David Gans il fatto che 1300 anni prima Rabbi Udannasi avesse ceduto ai saggi degli altri popoli perché invece secondo Tico avevano ragione i saggi di Israele. In che senso avevano ragione? Perché cosa dice Tico Ebrae? Tico Ebrae dice che il sole e i pianeti girano attorno al sole quindi si muovono e non possono stare fissi nella sfera di cristallo che si presumeva esistenza. I pianeti si muovono attorno al sole e poi dopo tutto si muove attorno alla terra. Quindi i pianeti sono mobili all'interno della sfera celeste. Che questo fosse il senso di discussione talmudica è tutto da vedere però Tico così la interpreta e successivamente anche altri che quindi stanno dicendo che in una discussione tra il sistema tolemaico e Copernicano antelitteram non tanto antelitteram perché Copernicano riprende Aristarco che era già prima e Tolomeo pure Tolomeo è del 150 circa per cui questa discussione è poco dopo la vita di Tolomeo la discussione nel Talmud. Tico dice che avevano ragione i saggi di Israele. Allora adesso vediamo un po' più in dettaglio il Talmud che cos'è e poi dopo passiamo rivediamo un attimo questa discussione che è interessante poi vorrei portarvi altri due brani brevi del Talmud in cui pure ci sono delle discussioni di carattere più biologico e medico. All'entrante al Talmud questa è una fotografia che ho preso dalla mia biblioteca a casa mia giusto per darvi un'idea che il Talmud è un'opera enciclopedica il Talmud sono questi volumoni giallo chiaro sono 20 volumi di dimensione enciclopedica il Talmud è la tradizione orale del popolo israele che accompagna la Bibbia la Bibbia era stata messa per iscritto fin dall'inizio o almeno comunque secondo la tradizione adesso non facciamo un'analisi critica della composizione della Bibbia ed era accompagnata da una tradizione orale che poi alla fine è stata messa per iscritto il primo nucleo che si chiama la Mishnah da Rabbi Yeudan si quello che vi ho citato prima nel 200 come diceva è scritto per evitare che andasse dimenticato la Mishnah che è il nucleo originario scritto in ebraico è composto di 63 trattati il Talmud ho anche detto Gemara esiste nella versione babilonese soltanto su 36 trattati questo è il primo trattato del Talmud Berahot delle benedizioni questa è la copertina del volume che è stato prodotto grazie alla collaborazione fra l'istituto di linguistica computazionale e l'SNR qui di Pisa l'unità diretta da Emiliano Giovanetti a cui parteceva anche Davide Albanesi e anche Andrea Bellandi e altri collaboratori via via che sono succeduti ricordiamo anche il direttore precedente l'istituto il professor Andrea Bozzi che è tuttora presidente del comitato scientifico del Talmud e questo trattato il primo trattato del Talmud anche se è uscito per motivi contingenti come secondo volume nella nostra edizione questo è il frontespizio e qui sono ricordati le varie persone coinvolte vi ho già citato Emiliano e gli altri e poi abbiamo dei collaboratori a Firenze San Roservi a Milano a Davide Piazza il tutto diretto dalla professoressa Clere a Piperno e tutto sotto l'egita del rabbino a capo di Roma che è Riccardo Disegni e altri persone questa è come appare la stampata nell'edizione stampata questo è l'inizio del del trattato Berahot vedete che a sinistra c'è la pagina in ebraico e aramaico perché la Mishnah è scritta in ebraico la Gemara che commenta la Mishnah è scritta in aramaico in Babilonia e accanto c'è la traduzione arricchita da schemi note commenti vari e anche ho scelto una dove ci fosse una immagine celeste qui abbiamo la costellazione del toro e le pleiadine al riguardo e il gruppo di stelle perché è un po' familiare con l'astronomia l'ammasso di stelle le play e questa è la pagina di lavoro non si vede granché comunque questa è la home page del sistema al traduco e qui abbiamo una schermata iniziale con tutti i trattati vedete 21 trattati vediamo se riesco a farlo vedere esc andiamo qua sotto explorer esatto ok qui si vede già un po' meglio e qui vedete che nella colonna di sinistra sono i trattati e per il primo trattato per raccolto sono neccati anche i nuovi capitoli questi sono i trattati attualmente in lavorazione invece abbiamo 21 trattati in buona parte già tradotti su 36 quindi siamo a buon punto grazie all'utilizzo del software poi se ci sarà tempo magari nel dibattito vi spiegherò per quale motivo è importante avere un software messo appunto appositamente per questa traduzione e questa è la pagina di lavoro in cui i raduttori inseriscono le parole in ebraico nella colonna di sinistra poi accanto mettono la traduzione poi aggiungono note rubriche varie eccetera qui vedete in basso a destra i suggerimenti perché questo sistema una delle peculiarità più importanti di questo sistema è che permette di dare visto che il Talmud è un'opera così grande è impossibile che sia radotta da un'unica persona abbiamo bisogno di diverse decenni traduttori e redattori allora c'è il rischio che ognuno lo raduca diversamente mentre il Talmud è pieno di passi paralleli allora per evitare che un certo passo sia radotto in un modo da uno e diverso ad un altro traduttore il sistema fornisce dei suggerimenti in modo da uniformare il lavoro di traduzione che poi viene comunque rifinito il traduttore può anche rifiutare la traduzione fatta da un altro traduttore però poi glielo segnala in questa maniera c'è un feedback poi ci sono i redattori i revisori che rifiniscono ok adesso per tornare indietro di un nuovo ESC no come torno a PowerPoint ok ho visto visto ok allora torniamo alla nostra discussione iniziamo prima dalla seconda qui c'è uno schema non so quanto si vede però se seguite la mia mano vi fa vedere meglio allora ripeto la seconda discussione che cosa dice e i saggi di Sera dicono di giorno il sole si muove da est a ovest sotto al cielo quello che vediamo noi di giorno vediamo diciamo che uno guarda verso sud est a sinistra quindi il sole sorge da sinistra sale in alto a mezzogiorno poi scende giù a destra ok di giorno a di notte dove va il sole allora qui c'è la discussione i saggi di Sera le dicono che di notte il sole continua un altro po' attraversa il firmamento celeste che è considerato come una cupola opaca e non trasparente quindi attraversa questa cupola poi dopo torna su in alto e fa così percorso in verso la mattina dopo di nuovo riesce ad est torna e passa sotto la cupola celeste e illumina la cupola opaca per cui non si vede il sole per cui è buio questa è la idea dei saggi di Sera lo sappiamo che non è così infatti i saggi dei popoli degli altri popoli dicono di giorno il sole si muove da est ove sotto al cielo come anche la prima opinione quella dei saggi di Sera ma di notte al di sotto della terra quindi vanno in giù così cosa c'è dietro questa discussione intanto la struttura della terra che nell'antica cosmogonia babilonese che evidentemente influenzava la cultura ebraica che derivava anche dalla cultura babilonese il mondo era piatto più che piatto era avete presente i coperchi delle anfore che sono un po' piatti però con una parte rialzata un doppio un doppio coperchio oppure come le astronavi che comunemente ci fanno vedere nei film di fantascienza quindi era piatto con un rialzo alle due estremità questa era la concezione antica che evidentemente era stata recepita dal dagli ebrei che erano vissuti in babilonia i saggi degli altri poveri la cultura greca che già dopo era tosta negli altri astronomi eccetera che avevano ben chiaro che la terra fosse rotonda era tosta e ha misurato anche la circonferenza della terra e dicevano che il sole di notte scende giù qui Rabbi Udana Sik il redattore della Mishnah che vi ho detto prima dice vedo più giusto quello che dicono loro gli altri popoli e porta una prova la prova è che quando perché le sorgenti sono fresche di giorno e calde di notte allora se le sorgenti sono calde di notte vuol dire che il sole sta sotto le sorgenti sotto la terra e le riscalda per cui dice il Rabbi hanno ragione gli altri popoli a dire che il sole di notte va sotto la terra e non sopra il firmamento celeste come dicono gli ebrei il sole va sotto la terra e riscalda la terra dal basso e per questo le sorgenti sono calde adesso noi sappiamo che non è così ammesso che le sorgenti siano calde non è perché il sole sta sotto in realtà in effetti le sorgenti sono più calde di notte ma per che la capacità termica dell'acqua della terra è maggiore a quella dell'aria per cui in effetti c'è questo effetto per cui l'acqua e la terra è più calda di notte o può essere in certi casi più calda di notte che di giorno è interessante perché qui la teoria è giusta ossia che il sole gira attorno alla terra che va sotto l'orizzonte la notte ma la prova è sbagliata qualcosa come visto che siamo a Pisa è successo a Galileo quando ho voluto dimostrare una delle prove che Galileo ha portato per la rotazione della terra su se stessa e quindi non che il sole gira attorno alla terra come nel sistema tolemaico ma la terra gira su se stessa e quindi noi vediamo che il sole gira ma in realtà siamo noi che giriamo ha portato come prova l'effetto delle maree e dicevi come la bacinella in cui l'acqua viene sballottata di qua di là e questo è perché la bacinella che ruota l'acqua si sballotta e la stessa cosa succede agli oceani e alle maree perché la terra ruotando sballotta l'acqua in realtà sappiamo che non è questa la spiegazione marea è la spiegazione corretta la data Newton tramite l'effetto gravitazionale congiunto della luna e del sole quindi anche qui vediamo nel caso di Galileo la teoria è giusta che la terra gira su se stessa ma la prova è sbagliata e la stessa cosa è successa qui nel caso di Rabiudan Assi che ha portato una prova sbagliata per una teoria giusta adesso passiamo ad un altro personaggio questo si chiama Josef del Medico ed era nato a Candia l'isola di Creta nel 1591 e morì nel 1655 e ci riesciamo a Galileo perché del Medico studiò fra 1606 e 1613 a Padova medicina che a quell'epoca gli studenti ebrei potevano studiare non dappertutto Padova era uno dei pochi posti in cui gli ebrei potevano studiare e potevano studiare medicina in particolare fra gli insegnanti ebbe anche Galileo e pubblicò un libro Sefer Elim vari testi questo qui è il testo in ebraico una ristampa nel questo testo che lui pubblicò e frontespizio ecco è stato pubblicato nel 1629 quindi quando del Medico era ancora in vita era relativamente giovane ed è pieno di riferimenti questo testo questa è una collezione di diagrammi geometrici meccanici astronomici matematici eccetera e il libro è pieno di questi diagrammi in questa pagina densa scritta in ebraico voi adesso non vedete io però mi sono appuntato qua e là anche lui cita Galileo cita Copernico in maniera che è interessante citare Tolomeo e Copernico sono chiamati due grandi luminari per chi è un po' familiare con la storia della Genesi all'inizio quando vengono creati nel terzo giorno della creazione i due grandi luminari sarebbe il sole e la luna i due grandi luminari sono Tolomeo e Copernico nel linguaggio di del Medico e poi parla di Tico Brahe lo straordinario astronomo e quello di Keplero grande negli studi e poi dopo inizia a parlare di Galileo e lo chiama Rabbi Galileo in ebraico che poi viene tradotto a rabbino ma il termine Rabbi vuol dire mio maestro Galileo era il maestro del Medico e dice del Medico chiesi a lui a Galileo di poter guardare attraverso lo strumento di vetro cosa che fece in più occasioni che Galileo che nel 1609-610 inventò o reinventò il telescopio e poi dopo lo usava fino a che stette poco dopo andò via da Padua ma finché stette a Padua lo utilizzò per le sue dimostrazioni evidentemente gli studenti accorrevano a vedere questa ultima invenzione scientifica e gli fece vedere Marte le fasi di Vene scendono che hanno fra l'altro prove del sistema copernicano e lì anche del Medico sposa la tesi copernicana e poi la spiega in dettaglio forse è stato del Medico da Padua è stato il primo che ha diffuso in ambiente ebraico con libri scritti in ebraico come quello che vedete qui in questa schermata diffuso la teoria copernicana e fece sì che almeno in parte degli studiosi ebrei fu accettata abbastanza rapidamente anche se non del tutto ok andiamo avanti questa schermata ve l'ho già fatta vedere abbiamo anche altri studiosi adesso non abbiamo tempo per citarli tutti adesso passiamo a un'altra discussione ora qui vedete mezza pagina questa è la seconda parte della pagina ebraico vedete in basso ci sono i numeretti 12 e 13 che abbiamo aggiunto nella nostra edizione in modo da corrispondere ai numeri nella traduzione italiana e qui portiamo un altro caso che però si connette con quello che abbiamo appena detto qui siamo in Beracolte il trattato che è appena uscito in italiano per questo vi ho fatto vedere la stampata numero 13 leggo le funzioni il titolo del passaggio è le funzioni degli organi al corpo umano si porta a un insegnamento abbastanza antico diciamo siamo nei primi secoli dell'era comune hanno insegnato i nostri maestri i reni danno consigli il cuore valuta in consigli la lingua articola parla la bocca conclude l'esofoco fa entrare uscire ogni genere di cibo la trachea emette la voce e poi prosegue prima di andare avanti qui in basso ci sono le note e da dove sappiamo che il rene dà i consigli perché c'è un verso che sta nei salmi 16 il salmo 16 benedirò il signore che mi consiglia anche di notti i miei reni mi ammoniscono qui nei salmi che però è un testo poetico però si dice che i reni consigliano allora i rabbini hanno recepito quest'idea che i reni consigliano il cuore valuta c'è un altro verso in Isaia capitolo 6 il cuore valuta questa è la pagina successiva e continua questo passo del Talmud il polmone aspira ogni genere di liquido il fegato si adira la bile ci inietta una goccia che tranquillizza la milsa ride il ventriglio frantuma il cibo lo stomaco dorme il naso fa sbagliare eccetera eccetera allora questa in brano pone dei problemi perché qui intanto il polmone aspira ogni genere di liquido il liquido non va nei polmoni va nello stomaco attraverso l'esopago non attraverso la trachea che va nei polmoni e anche sui reni che consigliano oppure quello è problematico allora come spiegare questo questo discorso allora qui dobbiamo andare a vedere è citato qui nella nota 1 in basso vedi Isacco Lampronti nella sua opera Pacha di Isacco Lampronti anche lui italiano come dice il nome era un medico aveva studiato medicina e poi si era laureato anche rabbino è nato a Ferrara nel 1679 Isacco Lampronti anche lui aveva studiato a Padova poi tornò a Ferrara ricevete il titolo rabbinico e composa una grande opera che si chiama Pacha di Isacco il timore di Isacco è una citazione della Bibbia Isacco ha il suo nome che è la la prima enciclopedia talmudica ordinata in ordine alfabetico dove in migliaia di voci riporta tutta la conoscenza talmudica in maniera sistematica talmudica è anche successiva e ha una certa voce ok questo è quello che abbiamo detto ok questo è il frontespizio del Pacha di Schac di questa opera di Lampronti questo in latino enciclopedia totius doctrine ebraiche ordine alfabetico instituit rabbi Isaac pensamo Lampronti Ferrarensis eccetera l'edizio Princeps Venezia 1750 fino a 1888 perché ci sono voluti due secoli per pubblicare tutti i volumi in cui si compone e qui c'è una voce che va avanti per un paio di pagine che adesso non mi leggerò tutta e vi dico soltanto cosa dice Lampronti su su questa su questo argomento allora Lampronti dice che non possiamo ritenere vero l'opinione dei saggi che dicono che il polmone aspira i liquidi e che i reni consigliano perché lui è medico sa bene conosce bene l'anatomia e per cui non è possibile di una cosa del genere e e cita anche e qui è scritto in ebraico a metà della pagina per chi riesce nella corona di destra riesce a vedere ci cita Francesco Redi Francesco Redi era il famoso naturalista membro dell'accademia del cimento fondata a Firenze nel 1657 per i seguaci di Galileo e in una lettera ecco opri Francesco Redi Lampronti cita traducendo in ebraico una lettera e mandata a un certo dottor Jacopo dell'apo in cui il gruppo di Francesco Redi poi viene citato anche Francesco Redi a un certo punto dice ve la leggo un po' enfaticamente o qui sì che parmi che vostra signoria eccellentissima si rida della mia buassaggine e me ne schernisca e si apparecchia a farmi una solenne ripassata quasi che io mi creda che la bevanda negli animali non vada allo stomaco ma bensì nei polmoni io non voglio ora dirle qualche cosa in questa faccenda ma mi creda sappio purella che altre barbe più lunghe più folte della mia se la sono creduta e di più l'hanno scritta a lettere di scatola Plotone fu egli uno zoccolo eppure nel tima insegnò che i pelmoni sono il scettacolo delle bevande e così saltiamo un po' altri illustri greci Eurotostene Oripide Giosippe eccetera ed ecco entra qui di mezzo il signor Redi le ultime righe eccetera e dice che tutti i costoro quelli che credono che i polmoni si riempiono d'acqua scrissero questa opinione non vuole rintendere quello che dice la lettera ma vuole raccennare con sentimento misterioso che a tutti i gran bevitori gonfiano finalmente i polmoni e tutti quanti diventano i robici del petto eccetera eccetera ok per cui qui si sta dando una spiegazione che mantiene vero l'opinione tradizionale anche se sbagliata dando un significato diverso anche l'ampronti dà una sua spiegazione Redi dà una spiegazione più avanti dicendo che praticamente i polmoni assorbono l'umidità che penetra attraverso la carne attraverso lo stomaco e invece l'ampronti dà un'altra spiegazione in cui dice collega i reni con il circolo spermatico e per cui i consigli che dà i consigli che i reni danno in realtà sono influenzati dal diciamo così dall'attività sessuale e quindi insomma cerca di dare delle spiegazioni indirette questo era il secondo brano il terzo brano di cui voglio parlare è che adesso vi cito non ho le slide ma ve lo cito direttamente a voce e si parla del problema dei di generazione spontanea anche qui torna di nuovo ready in ballo e il problema sulle pulce e pidocchi adesso non pensate che sia un argomento banale perché è interessante allora la questione è così ci si chiede se di sabato in cui vi è dato a fare determinate azioni è permesso uccidere degli insettini tipo le pulci e la risposta è no perché perché di sabato vi è dato a uccidere anche gli altri giorni vi è dato a uccidere gli animali senza motivo però di sabato c'è un ulteriore divieto perché di sabato sono vi date tante azioni tra cui anche quella di far uscire il sangue è quella di uccidere e allora si dice che le pulce vi è dato a uscire perché non fa differenza uscire una pulce o uccidere un cammello animali piccoli e grandi non fa differenza pulci ed elefanti pari sono però i pidocchi dice il Talmud è permesso uscidere perché perché non si riproducono come gli altri esseri viventi da un maschio e da una femmina non depongono le uova questo è quello che si pensava viene l'ampronti e lui è vissuto pochi dici anni dopo Galileo quindi dopo l'invenzione del microscopio e ha visto con il microscopio che anche i pidocchi hanno le uova e allora dice l'ampronti ora che la scienza ci ha dimostrato che i pidocchi pure si riproducono come tutti gli altri animali con un maschio e una femmina che depongono le uova allora non possiamo uccidere neanche i pidocchi di sabato quando scrive questo suo risponso lo manda in lettura al suo maestro Brill iuda Brill a Mantua se non sbaglio a Mantua a Modena stava e il quale li replica ah aspetta e dice l'ampronti argomentando nella sua discussione che questo è un caso come quello della rotazione delle sfere dei pennelli e delle stelle in cui i saggi di Israele diedero la ragione ai saggi degli altri popoli allora anche qui se i saggi di Israele avessero avuto modo i saggi del Talmud avessero avuto modo di vedere le uova dei pidocchi attraverso uno strumento ad hoc tipo il microscopio avrebbero detto che anche i pidocchi eravano dato uccidi però visto che non ce l'avevano hanno detto che si poteva ora che invece c'è dobbiamo quindi uniformarci a quello che è la conoscenza scientifica manda questa risposta al suo maestro il maestro gli dice no se il Talmud ci ha scritto così noi accettiamo quello che è scritto nel Talmud e poi vedi gli dice Alan Pronte il maestro dice Alan Pronte lo vedi che anche a quell'epoca quello che si pensava che fosse un'opinione errata quella dei saggi di Israele si è rivelata invece l'opinione corretta perché leggeva la discussione fra la sfera fissa e la sfera mobile come una un'idea a favore del sistema copernicano che alla fine ha avuto ragione sul sistema tolemaico per cui le vecchie idee degli ebrei che all'inizio all'epoca in cui era prevalente la cultura greca sembravano errate però invece adesso si sono rivelate quelle vere per cui quindi c'è il paradosso che lo studioso più giovane più moderno Lampronti che utilizza il microscopio per arrivare a scelte decisioni è in realtà invece sconfitto dal maestro conservatore che gli dice che saggi di Israele c'hanno ragione per cui magari c'hanno ragione anche in questo caso qua delle pulce dei pidocchi qual è la rilevanza in generale è che la rilevanza è quando si discuta appunto di problematica fra religione e scienza e fino a che punto la parola rivelata la parola considerata sacra ha la prevalenza sulle evidenze scientifiche questo è un discorso ampio in particolare è interessante per quanto riguarda i problemi di bioetica in questa occasione non abbiamo tempo magari un'altra occasione e c'è tutto il problema della formazione dell'embrione da quando l'embrione diventa persona o meno e ovviamente lì è rilevante capire anche le evidenze scientifiche che cosa ci dicono mi avvia la conclusione in modo da lasciare spazio alle domande qui vi presento alcuni testi su questi argomenti questo è uscito recentemente uno o due anni fa in inglese e in questo vedete c'è questo questo schema in ebraico un astrolabe un strumento del mondo una sfera armillare per la precisione e che anche io riportare in un articolo che ho scritto sulla rassegna mensile di Israel su questi argomenti poi queste slide le lascio a Emiliano per cui chi vuole le può ritrovare questo è il mio articolo che è uscito su questa rivista e questo è un altro testo di un uomo sempre questa sfera armillare che evidentemente da punto di vista grafico attira gli editori e per cui la mettono in prima pagina in copertina questo è scritto da André Nair che l'ha scritto in francese e poi sarà tradotto in inglese tutto su David Gans e sui tempi per cui anche gli altri rabbini tutti i rabbini che ho citato i personaggi che ho citato quindi Gans del medico e gli astronomi e anche molti altri sono citati in queste opere recenti e moderne questo è un altro testo David Ruderman pure questo è in inglese ma è stato tradotto anche in italiano adesso mi avvio alla conclusione per fare un po' il punto per rispondere alla domanda quanta scienza c'è nel Talmud e utilizzo uno schema che ha fatto il professor Boncinelli se lo ritrovo non lo ritrovo un attimo solo per far vedere la differenza fra la scienza e il va beh lo dico a memoria Boncinelli che partecipò pure a un incontro sul confronto fra Talmud doveva partecipare a un confronto fra Talmud e scienza Boncinelli dice la scienza è caratterizzata dall'osservazione dalla sperimentazione dalla misurazione dalla classificazione dalla previsione predizione dalla costruzione di teorie elaborazione di teorie e poi predizione di nuovi fenomeni e poi verificare se vengono in maniera sistematica tutto questo nel Talmud non c'è però nel Talmud si parla di tanti esempi che hanno a che fare con l'astronomia come nei casi che vi ho illustrato come la biologia con la botanica con la zoologia per cui il Talmud non è un testo scientifico i passi che sono attinenti alle scienze sono forse possono coprire al massimo un 10-15% di tutto il Talmud però ci sono e il Talmud è un testo dialogico un testo fatto di domande risposte e obiezioni nelle schermate forse avete visto domande risposte e obiezioni e nelle argomentazioni spesso si usano nella forma dialogica basata sulla logica spesso utilizza dei meccanismi che possono essere affini alla discussione scientifica e allora concludo con una citazione da Carlo Rovelli sette brevi lezioni di fisica in cui illustra in maniera divulgativa un grande divulgatore professor Rovelli illustra lo stallo che c'è attualmente nel conciliare la teoria quantistica e la teoria della realità generale e lo illustra in questa maniera dice Rovelli c'è una situazione paradossale al centro della nostra conoscenza del mondo fisico il secondo paragrafo il novecento ci ha lasciato le due gemme di cui ho parlato la relatività generale e la meccanica quantistica sulla prima sono cresciute la cosmologia l'astrofisica lo studio delle onde gravitazionali dei buchi neri e molto altro la seconda è diventata la base della fisica atomica della fisica nucleare della fisica delle particelle elementari della fisica della materia condensata e molto altro due teorie prodiche di doni e fondamentali per la tecnologia odierna che hanno cambiato il nostro modo di vivere tutta la nostra tecnologia dai telefonini ai satelliti si legge su queste teorie e però eppure le due teorie meccanica quantistica e relatività generale non possono essere entrambe giuste almeno nella loro forma attuale perché si contraddicono l'un l'altra uno studente universitario che assista alle lezioni di relatività generale il mattino e a quelle di meccanica quantistica il pomeriggio non può che concludere che i professori sono citrulli e gli zoccoli direbbe Redi come disse di Platone o hanno dimenticato di parlarsi da un secolo gli stanno insegnando due immagini del mondo in completa contraddizione la mattina il mondo è uno spazio curvo dove tutto è continuo a relatività generale pomeriggio il mondo è uno spazio piatto dove saltano quanti di energia la meccanica quantistica il paradosso continua a Rovelli è che entrambe le teorie funzionano terribilmente bene e ora viene il punto per cui vi ho uscito la natura si sta comportando con noi come quell'anziano rabbino da cui erano andati due uomini per dirimere una contesa ascoltate il primo il rabbino dice hai ragione il secondo insiste per essere ascoltato il rabbino lo ascolta gli dice hai ragione anche tu allora la moglie del rabbino che orecchiava da un'altra stanza urla ma non possono avere ragione entrambi il rabbino ci pensa annuisce e conclude anche tu hai ragione allora questo passo di Rovelli che non so da dove l'ha tratto penso che sia apocrifo ma anche se non è vero è verosimile perché in effetti è così spesso in una discussione talmudica che va avanti a forza di obiezioni risposte contribuzioni irrepliche eccetera e poi dopo ognuno ha ragione da un certo punto di vista ha ragione per questo hanno tutti ragione il talmud dice il rabbino Steinsatz che è il rabbino che ha iniziato questa divulgazione e diffusione del talmud traducendo il talmud dall'aramaico in ebraico moderno e poi dopo si sono arrivate altre traduzioni in inglese anche di Steinsatz o di altri editori anche la nostra traduzione in italiano deve tutto a Rav Steinsatz che ci ha fornito peraltro il suo staff il testo ebraico ebraico-ramaico che compare a fronte allora Steinsatz dice che il talmud è l'unica forse opera sacra o non sacra l'unica opera lo leggo come lo dice lui dice Steinsatz dopo che ha assimilato il testo talmudico lo studente è tenuto a formulare a se stesso o ad altri domande sul materiale studiato a sollevare i dubbi ad avanzare riserve questo come è ovvio tutti i studi è così e questo è il metodo di studio ma poi aggiunge da questo punto di vista il talmud è forse l'unico libro sacro in qualsiasi cultura al mondo che consente perfino incoraggia domande e contestazioni da parte di quelli stessi che gli attribuiscono il carattere di santità come abbiamo visto in questo paio di esempi che abbiamo citato è che il talmud non se ci sono delle affermazioni che vanno contro l'idea corrente spiegata dimostrata dagli scienziati e beh bisogna tenere conto anche si possono anche contestare certe affermazioni del talmud concludiamo con le parole di Galileo visto che siamo qui a Pisa che tutti conoscono parole famose ma che sono sempre bene ricordare quando si parla di discrepanze o presunte discrepanze tra i testi sacri il talmud è anch'esso un testo sacro ancora più è la Bibbia dice Galileo io qui direi che quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado cioè l'intenzione dello Spirito Santo essere di insegnarci come si vadia il cielo e non come vadia il cielo e questa è una famosa citazione dalla lettera a madama Cristina di Lorena grand'utessa di Toscana grazie ci sono domande buonasera una domanda così visto che attualmente si parla tanto di cucina voglio sapere guardando i cibi dal punto di vista biologico come si pone nella comunità scientifica ebraica con la tradizione kosher o con l'avversione verso la carne di maiale eccetera oggigiorno allora i divieti alimentari che sono presenti già nella Torah nel Pentateuco nella prima sessione della Bibbia e come molti divieti la Bibbia non dà motivazioni quindi è vero che nella Bibbia c'è scritto che vi è dato mangiare il maiale vi è dato mangiare carne e latte vi è dato mangiare il cammello e tanti altri mani alla fine sono permessi soltanto alcuni volatili e bovini ovini e caprini essenzialmente e per quanto guarda i pesci pur ci sono limitazioni allora la Bibbia non dà una motivazione se non quella di dire che dobbiamo essere santi e la santità prevede anche una autolimitazione in quello che si mangia come anche in altre faccende per cui la motivazione igienica che qualcuno ha voluto presentare come possibile spiegazione non è la motivazione tradizionale e probabilmente non è neanche quella vera dal punto di vista della Bibbia perché il contesto è un contesto di santità possiamo però dire che come effetto collaterale certamente i certi animali nelle regioni calde come erano quelle dove viveva il popolo israele e certi animali forse anche il maiale o altri animali potevano essere non indicati per la dieta però questa non è la motivazione principale per cui in ogni caso non si può mangiare non si può mangiare il maiale e poi i rabbini sanno bene che il maiale non fa generalmente male forse in certi casi fa male ma in altri casi no infatti dicono tutto il mondo mangia il maiale non tutto perché i musulmani non lo mangiano ma non abbiamo mai visto che ci siano dei problemi generalizzati per cui la meditazione kosher non ha una spiegazione scientifica dietetica salutistica ma ha una spiegazione morale religiosa volevo sapere cosa ne pensa dell'imprecisione degli scritti siano sacri o no perché spesso succede che nel tempo si possano avere varie interpretazioni ci sono delle interpretazioni che li sconfessano completamente poi percorrendo il tempo qualcuno riesce a trovarci una interpretazione che fa apparire verità quello che prima non era verità e volevo il suo parere grazie è chiaro che in un testo scritto è soggetto per motivi intrinseci è soggetto a corruzioni del testo perché è un testo che viene ricopiato noi leggiamo la Torah il testo sacro per eccellenza settimanalmente in sinagoga e lo leggiamo da una pergamena scritta a mano la regola tradizionale è che deve essere scritta a mano non basta non va bene un testo stampato il testo scritto a mano è scritto da dei scrivi specializzati molto attenti e molto scrupolosi ma può capitare che introducano errori e questo vale anche per tutti gli altri testi anche non quelli anche il testo del Talmud che non ha una funzione liturgica come la Torah ma è stato scrittato è stato tramandato primoralmente poi messo per scritto così tutti gli altri testi per cui è chiaro che c'è sempre la possibilità di errori a volte gravi a volte meno gravi e lì il Talmud e i rabbini che poi codificano la legge danno una regola pratica del tutto ragionevole che è come se abbiamo tre manoscritti o tre testi della Torah in cui in uno di questi c'è la differenza allora si va a seconda la maggioranza se c'è un punto in cui c'è diversità si va a seconda la maggioranza quindi una considerazione statistica del testo anche questa può non essere sufficiente magari manoscritti ulteriori e altre indagini possono modificare anche oggi per quanto il testo della Bibbia sia canonizzato da tempo e si sa esattamente come deve essere scritto eccetera però ci sono delle varianti in genere di minor conto qua e là che gli studiosi utilizzano magari per trovare nuove spiegazioni una fonte recentemente usata è stata i manoscritti di Qumran che sono stati trovati nel deserto della Giudea una settantina di anni fa e sulla base di quelli in effetti è stato possibile trovare nuove interpretazioni ovviamente il testo canonico non è stato cambiato però hanno gettato nuova luce sull'interpretazione di alcune frasi della Bibbia per cui il testo scritto da mano umana per definizione può essere ricettacolo di errori e fonte di errori anche qui come la scienza si va avanti per approssimazioni successive domanda curiosità sì Rabbi Gianfranco di Segni volevo chiedere come interpreta il Talmud e anche la Bibbia il fatto del peccato originale del mangiare la mela in latino malum male come meditare con compasso e squadra sul terzo pianeta malum meditare col compasso e squadra ymu il mangiare il motivare praticamente il male dovrebbe essere interpretato non con qualcosa in antitesi ma come qualcosa da razionalizzare da dire in propositivo in modo che possa generare il bene male bene come un'unità che si autogenera ma secondo ragione allora intanto l'albero da cui mangiare una prima coppia umana da Medeva probabilmente non era la mela e questo è un esempio della corruzione del testo perché è stato interpretato malum come se fosse mela ma non è una mela per la tradizione ebraica ci sono quattro opinioni su quale potesse essere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male uno è il cedro perché il cedro è un frutto il cedro agrume perché il cedro è un frutto di bell'aspetto è molto bello perché è presente come è fatto il cedro e visto che l'albero da cui mangiarono erano bello d'aspetto per questo lo mangiarono perché furono attirati da questo albero di bell'aspetto per cui secondo alcuni maestri del Talmud era un cero un'altra opinione era che fosse il fico perché subito dopo si dice che Adam e Deva si coprivano con la foglia di fico perché erano nudi e non sembrano di essere nudi quando si rendono conto o meglio se si rendono conto e si vergogna di essere nudi allora si coprono con il fico perché proprio il fico perché era l'albero da cui avevano mangiato la terza spiegazione è che fosse il grano che non era un albero però erano delle spighe molto alte se qualcuno ha visto magari al cinema la televisione un documentario ci è andato di persona in Ucraina e nei grandi spazi d'Europa in cui i granai d'Europa sono chiamati e vedono che ci sono delle spighe altissime di gran turco o di frumento per cui possono assomigliare a un albero oppure gli alberi di quell'albero che non ha più alti e perché il grano perché dal grano si fa il pane e il pane è il primo alimento che è associato alla maturazione alla crescita del bambino e quindi alla conoscenza si inizia a conoscere insieme a quando si mangia il pane la quarta spiegazione dell'albero la quarta ipotesi di quale fosse l'albero di cui mangiarono Adam e Eva è che non si sa qual è l'albero non lo sappiamo in modo da non poter dire ecco quello è l'albero che ci ha indotto in tentazione e ci ha andato in peccato il divieto di mangiare dell'albero e del bene e del male in realtà era il secondo ordine che il signor Dio aveva dato perché prima aveva detto potete mangiare dovete mangiare di tutti gli alberi che stanno nel giardino quindi prima viene l'ordine di mangiare e di godere di quello che c'è in questo mondo e quello era un mondo speciale il giardino dell'Edan c'era di tutto e però e questa forse è una spiegazione anche alle norme del kosher perché bisogna autolimitarsi vuoi mangiare di tutto però devi avere uno spazio in cui sei santo e cui ti autolimiti per cui il divieto di mangiare dell'albero probabilmente non c'era niente speciale quell'albero era soltanto il fatto stesso che il signore ti ordina di autolimitarti quello è uno strumento per accedere alla santità e l'uomo e la donna hanno peccato e quindi e quindi sono discesi sono usciti fuori da questa condizione ideale però si dà il caso che la terra sia schiacciata ai poli come una mela e che una pera ci abbia la forma della magnetosfera quindi l'atmosfera è la terra tutta come la mela abbiamo detto che questa concessione della terra schiacciata ah vabbè no la terra schiacciata ai poli ma la terra schiacciata ai poli è perché ruota su se stessa invece gli ebrei pensavano non ruotava del resto il cibo dovrebbe essere cibo testimonianza della salute dell'habitat quindi giustamente limitarsi ma non è soltanto una questione di limitarsi ma anche di tipo di cibo che va preso che va assunto come testimonianza della salute dell'habitat è bene ricordare che l'uomo e la donna che sono stati portati dal signore Dio nel giardino dell'Edeni è stato detto entra nel giardino per lavorarlo e custodirlo per migliorarlo lavorarlo civilizzarlo ma anche custodirlo preservarlo intatto e magari migliorato alle generazioni successive l'abbiamo ricordato anche l'altro giorno a Roma la presentazione del Tamù cosa che non stiamo facendo eh vabbè ci proviamo ci proviamo soltanto che se riprendessimo il concetto di male di fare qualcosa di sensato a compasso L squadra a maiuscolo come compasso vabbè magari ne parliamo dopo sentiamo se sono altre domande chiaro che le curiosità avendo davanti un ricercatore o un rabbino sono quelle più di fare domande al rabbino perché insomma è un'occasione unica che abbiamo di toglierci qualche curiosità anche sulla cultura ebraica quindi insomma approfittatene finché Gianfranco è qui approfitto di questo invito prima ha parlato delle ipotesi circa il frutto proibito e alcune di queste ipotesi sono ragionevoli perché si basano diciamo così su intuizione abbastanza immediata la foglia di fico perché è un fatto di prossimità l'agrume perché era bello vedersi però mi ha colpito molto quello della spiga di grano soprattutto l'associazione che ha fatto tra la spiga di grano il pane e la conoscenza la conoscenza la maturazione intellettuale anche nel percorso che il bambino fa crescere la conoscenza è sempre un termine estremamente come si dice guardato con grande rispetto all'interno dei vari testi sacri perlomeno questo è quello che io percepisco da persona esterna che cerca di leggere io sono rimasto molto affascinato di alcune letture che ho fatto circa la cabbala che su cui veramente ho delle perplessità interessanti da un lato che cosa è la cabbala rispetto a alla cultura tradizionale diciamo rabbinica o ebraica la cabbala prima di tutto è cultura tradizionale ha le fondamenta nel talmud cabbala vuol dire ricezione ricevimento in ebreco moderno cabbala è anche la ricevuta che si prende quando uno va a comprare qualcosa al negozio che è qualcosa che si riceve non è possibile entrare nel mondo della cabbala studiando dei libri bisogna riceverlo da un maestro il quale a sua volta l'ha ricevuto da un altro maestro e così via fino su su andando al primo maestro di tutti gli ebrei che è Mosè che ci ha portato fuori dall'Egitto e ci ha dato la Torah l'insegnamento per cui la cabbala è un insegnamento tradizionale anche se storicamente i testi della cabbala si sono diffusi nel 1200 poi fra i studiosi i critici c'è discussione se siano stati composti nel 1200 oppure siano stati composti prima certamente c'è uno strato antico perché già nel Talmud dei concetti che poi sono presenti nella cabbala sono presenti la cabbala è la conoscenza mistica la conoscenza profonda si dice che il testo della Torah ha quattro livelli di significato c'è il livello piano ed è chiamato pardes che vuol dire frutteto giardino pardes paradiso pardes sono una parola formata da quattro iniziali quattro lettere la pista per pesciatte il senso piano letterale semplice del testo poi c'è la R remes il senso allusivo in cui bisogna trovare l'allusione all'interno del testo poi c'è il derash che è il senso allegorico che bisogna ricercarlo che è ancora più distante dal senso letterale e poi l'ultima la S sod che vuol dire segreto del senso mistico quindi la cabalà fornisce il senso mistico delle cose anche questi brani del Talmud che vi ho letto molti maestri della cabalà il più famoso forse è il Maharal di Praga e per chi capita a Praga se va al cimitero ebraico di Praga troverà le tombe dei due maestri rabbini che vi ho citato prima David Gans Yosef del Medico e anche del Maharal che è un grande studioso della cabalà che anche lui ha parlato di astronomia tutti e tre contemporanei il Maharal dà delle spiegazioni nel profondo di quelle discussioni fra le sfere che ruotano le sfere che stanno fisse e ugualmente i reni che consigliano che non sono le spiegazioni piane io vi ho presentato soltanto la spiegazione piana la ruota che gira Copernico Polomè eccetera ma si possono interpretare queste discussioni andando al profondo dando significati diversi nella mistica in questa maniera fra l'altro si permette perché teniate conto che non è così facile per gli ebrei tradizionali affermare che certe affermazioni nel Talmud sono sbagliate come non è facile quando si contenga attestano certe affermazioni nel mondo cattolico o nel mondo musulmano o in tutte le altre religioni perché un testo che è considerato sacro dagli aderenti alla religione non accettano di contestarlo perché altrimenti magari contesterebbero anche altre affermazioni i maestri della Kabbalah del Midrash dell'interpretazione allegorica permettono di mantenere il testo com'è mandandone un significato diverso più profondo quindi la Kabbalah va al dentro delle cose si dice che non si inizia a studiare la Kabbalah se uno non ha almeno 40 anni se non ha studiato tutto il resto della conoscenza manifesta la Kabbalah è la conoscenza nascosta prima si studia la conoscenza manifesta per esempio il Talmud per cui alla fine sono pochi i veri studiosi di Kabbalah non tutti quelli che scrivono libri di Kabbalah sono gli studiosi di Kabbalah una curiosità ai tempi del processo a Galileo uno degli argomenti che veniva tirato fuori per controbattere le sue tesi era l'episodio del libro di Giosuè in cui Giosuè chiede al Signore di far fermare il sole venendo esaudito mi domando se questo passo ha mai turbato gli studiosi ebrei oppure se li ha lasciati tranquilli non più di tanto proprio perché il testo biblico viene interpretato con questi diversi livelli di interpretazione per cui si possono dare interpretazioni diverse una interpretazione che è possibile dare che forse anche Galileo aveva dato non mi ricordo se è la porta è che fu un'impressione della gente che assisteva all'episodio che il sole si fosse fermato un'altra interpretazione è che ci fosse stata un'eclissi in quel momento per cui abbia in qualche maniera congelato almeno apparentemente abbia congelato o spiegazioni del genere di tipo naturale oppure spiegazioni allegoriche del passo però no gli ebrei non sono stati turbati più di tanto da questo testo di Giosuè e anche perché poi non ci sono molti altri testi nella Bibbia in cui si dice che il sole si muove e la terra sta ferma e a parte questo di Giosuè forse c'è un altro paio di allusioni in realtà gli ebrei tradizionali non sono turbati più di tanto perché alla fine lo studio scientifico conta ma conta di meno rispetto allo studio della Torah e del Talmud per cui l'oggetto di studio per gli studiosi non è la scienza non è l'astronomia ma è la Torah e il Talmud e quindi se poi dopo certe frasi che riguardano la scienza naturale sono contraddittore non ci interessano più di tanto perché comunque non è quello di cui ci vogliamo occupare questo è un po' l'atteggiamento degli ebrei tradizionali gli ebrei più moderni ovviamente hanno altri modi per conciliare le due cose dando significati diversi oppure semplicemente dicendo che il testo biblico è stato scritto secondo l'ottica dell'epoca secondo il linguaggio dell'epoca ovviamente ma questo anche fino a Galileo anche dopo Galileo non è che il sistema copernicano è stato accettato appena pubblicato è stato accettato tutti sono passati secoli il libro Galileo è rimasto all'indice fino ai primi anni dell'ottocento per cui non è stata facile l'accettazione della teoria copernicana come anche per esempio la teoria di Darwin per quanto riguarda Copernico e Ptolomeo i nostri sensi ci dicono che è il sole che gira attorno alla terra non la terra che gira su se stessa perché noi vediamo siamo fermi questo è quello che dicevano gli oppositori a Copernico quando io prima vi ho fatto vedere con le mani com'è il percorso del sole vi ho detto che il sole si muove dalla sinistra a destra perché è quello che vediamo ogni mattina per cui il senso comune dice così e allora non era possibile che 3.500 anni diciamo 3.000 anni fa va bene quando più o meno possiamo collocare gli episodi di Giosuè non era possibile che 3.000 anni fa si dicesse che per dire che il sole si fermava si diceva la terra si ferma nel suo movimento è impossibile al mutista scientifico ma se uno voleva dare questa immagine non poteva dire che la terra si ferma che la gente prende la terra sta sempre ferma è il sole che si muove che al massimo sta ferma per cui la frase che dice il Talmud la Torah parla il linguaggio degli uomini e se parla il linguaggio degli uomini parla nel linguaggio di ogni epoca ogni società ha il suo linguaggio 3.000 anni fa e per 2.000 anni 5 2.500 anni dopo il consenso era che il sole si muove e la terra sta ferma questa è la risposta giusta ora che abbiamo l'imprimatur del professor Di Porto oltre che all'imprimatur pontificio come si può conciliare la teoria evoluzionista con la teoria creazionista cioè quello che è scritto nella Genesi lei come lo considera o comunque la scienza come lo considera allora intanto sgombriamo il campo dai dubbi io sono un biologo per cui sono anche rabbino e sono osservante ma come biologo per me la teoria evoluzionista è solida quanto questo tavolo per cui non ci piove è impossibile fare ricerca di biologia pensare a biologia capire la biologia oggi ma ormai da cent'anni e passa senza avere come premessa la teoria evoluzionista così come è stata formulata da Darwin e poi successivamente da tutti gli altri scienziati che l'hanno via via perfezionata perché Darwin ancora non conosceva la genetica di Mendel benché fossero più o meno contemporanei ma la genetica di Mendel è stata riscoperta nel 1900 l'evoluzione della specie della selezione insomma il libro di Darwin non c'era il termine evoluzione nel titolo ed è 1850 l'origine della specie per cui la teoria dell'evoluzione è un dato di fatto è in contraddizione con la genesi sarebbe in contraddizione se la genesi o in generale la bibbia fosse un libro di biologia o un libro di fisica che ci dice come Big Bang queste cose qui o un libro di storia anche ma la genesi e gli altri libri non sono né un libro di biologia né un libro di fisica né un libro di storia per cui questa è la prima premessa se la genesi non ci vuole insegnare la biologia allora quello che è scritto nella genesi non è poi così rilevante per sapere quello che effettivamente avvenne all'origine del mondo all'origine della vita la genesi e gli altri testi ci vogliono dare altri insegnamenti insegnamenti di carattere morale sociale forse anche politico ma difficilmente ci vogliono dare insegnamenti anche lì possiamo applicare come abbiamo detto prima la Torah parla il linguaggio degli uomini e se le conoscenze dell'epica di 3500 anni fa erano tali che si doveva fare un discorso come è stato diviso nel libro del genesi possiamo dire che così fu scritto in modo per rendere comprensibile il testo è vero che c'è chi interpreta letteralmente anche fra gli ebreici sono certamente letture tradizionali letterali il creazionismo peraltro è più una teoria cristiana protestante invoca negli Stati Uniti che affermano che il mondo è stato creato 6.000 anni fa circa esattamente come è scritto nella Genesi una variante della teoria crezionista un po' più scientifica ma non più di tanta è quella del disegno intelligente la mia risposta comunque è che non ci sono contraddizioni fra il testo della Bibbia la scienza perché corrono su due binari paralleli è quello che un grande evoluzionista morto già da qualche anno Stephen J. Gould diceva i due magisteri che non si sovrappongono e se vanno in parallelo le parallele non si incontrano e quindi neanche si scontrano ogni tanto ci sono dei punti di intersezione e allora lì si può cercare di indagare e cercare di capire c'è chi vuole trovare delle delle allusioni nel testo biblico in effetti se uno guarda il testo biblico vede che comunque c'è una sorta di evoluzione perché l'uomo e gli animali di cui l'uomo è parte che l'ultimo giorno della creazione il sesto giorno il venerdì della creazione che si inizia dalla domenica la settimana ebraica e si conclude col sabato il venerdì vengono creati tutti gli animali superiori insomma i mammiferi quadrupedi eccetera e l'uomo perché l'uomo è parte del regno animale mentre invece i pesci vengono creati nei giorni precedenti quindi c'è una sorta di evoluzione almeno a grandi linee nel racconto della creazione poi i sei giorni vanno intesi in questa lettura diciamo lata i sei giorni possono essere intesi con sei epoche anche la teoria dell'evoluzione o meglio insomma nella storia naturalistica della terra ci sono diversi periodi in cui diverse classi di animali si sono succedute via via in maniera abbastanza anche contingente e circostanziale penso che sapete tutti che i mammiferi l'esplosione dei mammiferi partendo da dei topolini grossi più o meno così è avvenuta quando è avvenuta qualcuno lo sa quando è che i mammiferi hanno iniziato a popolare il mondo quando è avvenuto quando è caduto un meteorite nello Yucatan nel peniso di Yucatan in Messico 65 milioni di anni fa e ha portato alla distruzione nel giro di qualche decennio non è che sta immediato i dinosauri che fino all'epoca dominavano il mondo con i dinosauri era difficile dice che i mammiferi potessero in qualche maniera farsi spazio con la caduta del meteorite grandi cene grande offuscamento della luce non c'erano più piante eccetera i dinosauri non avevano più da che mangiare i dinosauri si sono estinti e a quel punto i mammiferi sono esplosi e da lì 65 milioni si è arrivati all'uomo 65 milioni non è tanto perché la vita sulla terra ha circa 3 miliardi e mezzo di anni per arrivare che venissero degli animali dal tipo che conosciamo noi di cui noi facciamo parte abbiamo dovuto aspettare parecchio un po' come l'ultimo giorno della creazione in cui è comparsi l'uomo e gli altri animali secondo termo pievani molti altri biologi e anch'io mi riconosco in questa visione non era affatto scontato che la vita intelligente comparisse sulla terra se il meteorite non cadeva qui forse questa conferenza la facevano i dinosauri ma non gli uomini la vita inaspettata una volta che la vita è iniziata si si può chiedere quanto intelligenza ci fosse già da primo nel racconto biblico in effetti se andate a leggere a rileggere andate a casa prendete una bibbia immagino che tutti o quasi avrete una bibbia a casa rileggete i primi capitoli della genesi e rispondete alla domanda se prima di mangiare il frutto dell'albero della coscienza del bene e del male Adam e Eva fossero particolarmente intelligenti oppure no il professore si sta dicendo che forse prima erano felici ma un po' stupidi poi dopo sono diventati intelligenti anche se sono iniziati i problemi perché l'intelligenza porta anche problemi un po' di magagne insomma cerchiamo di barcamenarci in questo mondo però siamo contenti di farlo dall'altra parte questa è l'unica vita che noi conosciamo se non ci sono altre domande io approfitterei per ringraziare davvero Ravio Gianfranco Di Segni per il suo tempo qui da con noi per questa lezione che ci ha dato grazie ancora grazie a voi grazie a tutti approfitto per ricordare che giovedì 13 dicembre ci sarà l'ultimo appuntamento del ciclo di Aria Aperta questo ciclo autunnale si parla di protezione della privacy nell'area dell'internet of things e parlerà Domenico Laforenza che tutti conosciamo grazie spero di rivedervi ok grazie Milano saluto divertente grazie a tutti grazie a tutti